Siamo una piccola azienda che coltiva nocciole nelle langhe e poi segue tutta la filiera per arrivare al prodotto finito. È un'azienda di famiglia che arriva da mio nonno Lorenzo, proseguita poi con mio padre e poi abbiamo fatto i laboratori per la lavorazione e la trasformazione di tutti i prodotti. Un tempo l'azienda era molto farstagliata e il noccioletto era un po' usato a livello familiare. Questo infatti è il torchio che usava mio padre per produrre l'olio di nocciola. Io ho scoperto penso verso i 10-12 anni che esisteva anche l'olio di oliva perché per noi l'olio era di nocciola. Poi arrivava anche questo prodotto che era la farina di nocciola che la usavamo dappertutto, un po' nel pane, un po' per fare dolci. Ecco abbiamo deciso di riprendere questi prodotti caduti un po' dalla produzione da quando la nocciola ha acquistato valore perché è ricercata sul mercato. Facciamo tutti i prodotti senza glutine, tra l'altro facciamo anche tutto senza latte proprio perché la nocciola te lo permette di fare molto oleosa, quindi a parte l'olio dalla farina sta assieme molto bene, molto compatta. Non solo ma possiamo fare molte creme, molti altri prodotti. Siamo arrivati a fare 28 prodotti a base di nocciola. I nostri prodotti sono tutti a base di nocciola, senza derivati anche del latte, senza conservanti, senza lieviti. L'ingrediente principale è appunto la farina di nocciola, come usa la mia bisnonna, ecco, e facciamo delle cose tradizionali come la torta di nocciola, gli amaretti alla nocciola, i britteboum, ma anche delle cose un po' più particolari come possono essere i pesti nocciola basilico, nocciola erotica, buonissime per condire la pasta oppure semplicemente su un crostino per gli aperitivi, ecco. Facciamo anche cinque tipi di creme, ne abbiamo due senza zucchero e due con zucchero, con e senza cacao e una crema salata, anche questa buonissima in abbonamento alle carni o ai formaggi, ma anche per un risotto, una pasta, ecco, un taglierin fatto con la farina di nocciola e farina di grano soraceno. Facciamo nocciole caramellate, nocciola caramellata salata, nocciola ricoperta di cioccolato, insomma basta giocare un po' con la fantasia e con la nocciola si può fare, dal dolce al salato. Il torrone è buonissimo poi adesso per Natale, una bellissima idea a regalo. Quest'anno purtroppo è stata un'annata molto scarsa, buonissima dal livello della qualità, qui una nocciola nelle langhe non sbaglia quasi mai, però dal punto di vista quantitativo decisamente inferiore, abbiamo fatto un 40% in meno di produzione. Tendenzialmente la nocciola produce un anno sì e un anno no già di per sé proprio come varietà, però sì, poi la gelata dell'aprile scorso ha comunque tolto una parte, poi insomma anche la seccità, c'è stata sicuramente la concausa di questi tre elementi che hanno portato a questa diminuzione. Noi abbiamo una parte in proprietà, quattro ettari e poi abbiamo altri in affitto. Le mie due figlie hanno sposato due aziende agricole con una produzione notevole di nocciole, di nocciole non ci mancano, però coltivare nocciole vuol dire essere neanche a metà dell'opera, cioè il lavoro che c'è dopo nella lavorazione è parecchio superiore. Io ho calcolato che una persona sola può lavorare anche 100 giornate piemontesi di nocciole, però se devi arrivare al prodotto finito, il lavoro vero è in laboratorio, perché devi quasi contarle, farle passare una per una. Invece nella coltivazione ormai è tutto meccanizzato, non si tocca più nulla, passa direttamente dopo la raccolta nei pulitori, nell'essiccazione, quindi arriva già praticamente in sacchi senza toccarla.